Rieccoci all'appuntamento con l'informazione di oggi, giovedì 5 gennaio. Oggi a Palermo l'incontro con l'assessore regionale della sanità Giovanna Volo per parlare dei problemi dell'ospedale di Sciacca. Il sindaco Fabio Termine guidava una delegazione di amministratori dei comuni della zona, tra cui il sindaco di Ribera, e parla al termine del confronto di fiducia negli impegni assunti dall'assessore. Sono state rappresentate le problematiche note e denunciate anche dal Comitato Civico per la Sanità, dalla gestione dell'emergenza al riconoscimento di idea di primo livello, dallo stroke unit non ancora realizzato alla carenza di personale. Dopo il pensionamento di Michele Todaro il comune di Sciacca si è trovato di fronte al problema di sostituire un dirigente comunale con molti compiti e per il momento si è deciso di affidare tale incarico ad interim al segretario generale Maglio Paglino. Si occuperà dei compiti che erano di Todaro, a cominciare da affari generali, cultura, turismo, manifestazioni, spettacoli, sport e altro. Si tratta ovviamente di un incarico temporaneo in attesa del probabile arrivo di un dirigente esterno che l'amministrazione comunale intende individuare per affidare gli tali importanti ruoli. Misure per offrire opportunità di impiego, far riconoscere il mondo delle aziende nel territorio, favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di categorie fragili della popolazione a rischio e marginazione. Queste quelle che ha elaborato e sta portando avanti il distretto saciosanitario D7 con capofile il comune di Sciacca. Sono stati pubblicati un avviso alle istanze per le manifestazioni di interesse rivolti ai cittadini residenti nei comuni del distretto e anche alle aziende che intendono accreditarsi per ospitare le attività previste. Le domande dovranno pervenire entro il 27 gennaio. Secondo le modalità inserite nell'avviso dove sono specificati tutti i requisiti richiesti per partecipare alle misure speciali. L'impressa Seabono che effettua il servizio di raccolta differenziata e il comune di Sciacca informano che anche domani, 6 gennaio, giorno di epifania, come da ecocalendario, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti sarà regolarmente operativo. Previsto come ogni venerdì il prelievo della frazione secco differenziato multimateriale. La Seabono raccomanda come sempre ai cittadini di rispettare le regole del conferimento ed inserire nei mastelli soltanto carta, cartone, vetro e plastica. Calcio, importante notizia per uno dei giovani più promettenti del settore giovanile dell'Unitas Sciacca. Paolo Miccolis, centrocampista di 17 anni, cresciuto nel settore giovanile della Geniclub Stadium e da due anni in forza all'Unitas con cui ha già fatto il suo esordio nel campionato di eccellenza, sarà protagonista di uno stage con la Salernitana, società che emilita in Serie A. Eventi natalizi di questa sera a Sciacca, alle 19.30 nella Chesa del Carmine per la rassegna Organe in Festa, si insibirà il maestro Giuseppe Intogna, alle ore 21 nella Basilica Maria Santissima del Soccorso, concerto di epifania del coro Città di Sciacca. È tutto, grazie per averci seguito. Buona serata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.